Salve, oggi il processo in corte d'assise si è tenuto regolarmente, abbiamo proceduto alla costituzione delle parti e il difensore dell'imputato ha richiesto di esprimere il proprio consenso per l'acquisizione di tutti gli elementi di prova che sono stati raccolti nella fase dell'immagine, cosa che successivamente è stata avallata anche dalle altre parti processuali e quindi pertanto l'intera attività istruttoria è stata totalmente assorbita attraverso l'acquisizione degli atti di prova e di indagine da parte della Corte. La prossima udienza è prevista per il 7 settembre nella quale procederemo al completamento dell'attività istruttoria per poi determinare il calendario per l'inizio della discussione e quindi la decisione successivamente avverrà da parte dell'attività. Grazie avvocato qui dal Palazzo di Giustizia di Napoli. Oggi siamo qua per dire giustizia per sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.